Terminata la tournée in Spagna del Sulmona Futsal, calciatori, staff tecnico e dirigenziale hanno trascorso una vacanza premia all'Almeria, ospiti dell'imprenditore Antonio Santacroce, presidente della squadra, per festeggiare la promozione in Serie B. Sono stati giorni di incontri e visite che hanno avuto come ultimo atto l'accoglienza nella sede della provincia di Almeria. Presente Giuse Antonio Garzia, assessore provinciale allo sport, che ha ringraziato la delegazione sulmonese per la visita ad Almeria, ma soprattutto Santa Croce, per aver organizzato il tutto. Se verrete promossi in A2, tornerete tutti qui in Almeria di Carado Garzia, invitando i giocatori a tornare in un'ottica di valorizzazione di Sulmona, oltre ai confini nazionali. Nei giorni in Andalusia, i ragazzi del Sulmona Futsal sono scesi in campo contro due squadre locali, prima per stancire un gemellaggio con gli spagnoli del El Egido, omaggiati dalla dirigenza del Sulmona Futsal con una targa, una maglia della squadra di confetti. Poi la squadra di Benjamin Fonte ha affrontato lo Sporting Almeria, reduce della vittoria nei play-off contro il Torre Molinos. Così come nella precedente amichevole, l'occasione è stata utile per sancire rapporti e collaborazioni nel segno dello sport. In serata c'è stata la visita a sorpresa alla squadra italiana dell'attaccante dell'Almeria, Sadik Umar, ex della Roma, del Bologna e del Torino. Sono stato onorato della sorpresa che ha voluto farci Umar. Questi giorni in Almeria aprono orizzonti importanti, la nostra è una società che passa dall'essere un gruppo di amici a dei professionisti, ha dichiarato il Presidente Santa Croce. Sulmona merita scenari nazionali e internazionali e in questi tre anni, nonostante la pandemia, abbiamo fatto un miracolo. L'Almeria è una terra accogliente, Sulmona è una terra poetica, abbiamo gli stessi colori, il matrimonio è fatto. Ora non ci resta che continuare a sognare e vincere il campionato di Serie B.